Scott, ormai è da un po' che ti osservo. Tu sei diverso. Non permettere mai a nessuno di dire che non hai nulla da offrire, figliolo. Non è detto che potrai avere una seconda occasione. Ti suggerisco di considerarla attentamente. Questa è la tua occasione di meritarti quello sguardo di tua figlia, di diventare l'eroe che lei già pensa tu sia. Non si tratta di salvare il nostro mondo. ma di salvare il loro. Scott, ho bisogno che tu sia Ant-Man. solo una domanda, è troppo tardi per cambiare il nome? Ant-Man